La valorizzazione di Ragalne e del suo borgo è il progetto che il Comune di Ragalna vuole realizzare nell'ambito del bando attrattività dei borghi storici previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per riuscire a raggiungere l'obiettivo, il Comune, con avviso pubblico, ricerca un partner al quale affidare, tramite accordo speciale di partenariato, anche in collaborazione pubblico-privato, gli interventi da realizzare. Attrattività dei borghi storici rientra nell'ambito della misura Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, rivolta a comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, anche con associazione di più enti, e Ragalna ne conta poco più di 4.000. La misura è diretta a recupero, restauro, manutenzione, gestione e valorizzazione di immobili beni culturali, con l'obiettivo della rigenerazione urbana ed edilizia, finalizzata ad arrestare lo spopolamento dei piccoli centri. La misura può contribuire a rivitalizzare il tessuto economico locale, con benefici in termine di crescita occupazionale, ma anche far crescere la partecipazione culturale, oltre che l'attrattività turistica. Partner del Comune per l'esecuzione della misura, con accordo di 5 anni, sono quanti siano interessati alla gestione dei beni culturali e sociali, attività di tour operator, promozione turistica, attività di formazione, diffusione culture ed eventi culturali, valorizzazione degli itinerari storici, pedonali e cicloturistici.